Buon salve Buon salve salvissimi Siamo tornati Con un magico video su Tarkov Comunque salvo a tutti i miei comuni e ben tornati in questo bellissimo video Oggi parliamo di Tarkov Della 0.11 Della mia esperienza Che è stata Per quello che ho giocato Alla 0.11 E insomma per chi mi segue un po' su facebook Che ricordo sempre trovate tutti i link in descrizione Su facebook ho messo E anche nella community tab di youtube Che avrei iniziato A provare la 0.11 Perché mi incuriosiva Nel video dove dicevo di a Tarkov Ho sempre detto Nel momento in cui Tarkov mi sembrava Insomma giocabile Mi rinteressava qualcosa L'avrei ripreso Ed è quello che sto facendo adesso Ci sto giocando un po' di più Per capire Quali bug sono rimasti Se tutte le cose che loro hanno scritto Che hanno fixato Le hanno fixate veramente E così via I problemi Per vedere anche con Perché io sono Ho smesso di giocare con dei problemi E piccolo spoiler Sono rientrato con Gli stessi problemi Diciamo Ora Giocando solo la mappa nuova Non è che Trovi tantissimi problemi Però ora Parliamo intanto Di che cos'è che hanno aggiunto Effettivamente in questa patch Sicuramente una patch Era Questa è la patch che mi Incursiva di più Rispetto alla 0.10 Perché Nella 0.10 Non è che ci fosse stato Chissà Che cosa C'era l'MP7 E così via Mentre qui C'era La mappa nuova E tante altre cose nuove Allora A parte la nuova Mappa The Lab È stata aggiunta Anche l'interfaccia offline Che è una cosa molto interessante Dove Offline Noi possiamo decidere Se mettere gli scav Quanti metterne Se mettere le ondate La difficoltà degli scav E così via Quindi non è anche male Per allenarsi Soprattutto Qui ci colleghiamo Di nuovo A The Lab Per i rider Allora The Lab C'ha Questi scav Che è come se fossero Scav Boss 10.000 volte meglio E Sono molto più intelligenti Sono pieni di granate Io non so effettivamente Se le granate Che hanno addosso Le finiscono o meno Sono pieni di granate Flash Hanno Le armature Ne hanno Cioè Tanta roba Li possiamo trovare Con il gilet LM2 Possiamo trovarli Con il tac tech Li possiamo trovare Con il gen 4 Che è la cosa più comune Con cui li possiamo trovare E questi rider Sarebbero Praticamente Tipo Ex militari Infatti Sono La maggior parte Sono Dei cosi Sono i Usec Però ci sono anche Gli scav Normali Che anche loro Sono un pochettino Meglio Rispetto a quelli Che siamo abituati A vedere E anche loro Hanno Roba Gnagnera E quindi Cioè se voi Andate lì Con una pistola O anche soltanto Con un HP Con della roba di merda Ad esempio Quando faccio le run Su quella mappa Quando non vado bardato Vado con La maschera antigas Quella russa Perché è fighissima Un paca O MPX O HP E niente Vai di headshot Facili E te ne esci Con 4000 gen 4 Elmetti HP 104 Moddate Con un bel mirino Un mirino Tanta roba E E 3 Può uscire anche Con un attack 2 Cioè Può uscire davvero Cioè come se Voi ammazzasse uno Ammazzasse uno Gesù Cristo Quindi ci sono Scav Gesù Cristo Player Gesù Cristo E niente Il paradiso È su The Lab Mappa Molto chiusa Cioè Tutta completamente chiusa Molto buia Bisogna stare attenti A fare casino È suddivisa Su tantissimi piani Le uscite Sono una figata Della madonna Sono una cazzo Di figata Cioè Ce sono tantissime Da quello che ho letto Quando entri in game Però Le uniche Che Di cui Ho usufruito Almeno io È Quella dove vai a cliccare Un pulsante Che apre Un Un coso Un carrellone Un portone Tipo garage Che abbiamo visto Anche nel trailer E quello Chiama anche Rider Quell'allarme E passando Quello Andate un po' più avanti E c'è L'estrazione Poi c'è Ci sono Gli ascensori Dove Noi bisogna Attivare Due pulsanti In due generatori Diversi Ma Diciamo Le zone Sono vicine Nello stesso piano E vicine Dovete chiamare L'ascensore Aspettare Che arrivi Entrate dentro Cliccate il pulsante E lì Parte l'estrazione C'è La La fogna Dove Cliccate un pulsante Aspettate che L'acqua Venga risucchiata Tutta Andate nel lato Opposto A dove Si attiva Il Il pulsante E iniziate a estrarre È una figata Invece che Come tutte le altre Mappe Andate in quel punto Iniziate a estrarre Io spero Facciano qualcosa Del genere Per tante altre Mappe O che Implementino Anche su Custom Interchange Queste altre qua Questi tipi di uscite Perché È davvero Una figata C'è Non c'è modo Per descrivere Davvero una figata Sono molto esaltato Per questo tipo D'uscita Comunque C'è il Boss Killa Che Non ho mai Trovato Intergenie Perché intergenie A parte l'ho giocato Una volta Sola Però Non l'ho trovato Lì Né morto Né niente Però Sono tipo Fraus Che l'ha ucciso E ci ha mandato Una clip Dove Lui pensava Fossero Scave normali Perché L'ho ucciso in tre secondi E' arrivato E' arrivato C'è Custom Custom Dalla zona Guardando Guardando Il Il coso Come si chiama La gas station A sinistra Tutta la parte a sinistra È stata espansa Quindi anche dietro al checkpoint E così via Una bella espansione Hanno aggiunto 21 quest In totale Che tanto io non riuscivo Cioè non finivo mai Quelle Che c'erano sempre Quindi figuriamoci se finirò Quell'altra C'è una nuova skill search Che aumenta la ricerca Nei cadaveri E di tutte le cose Dove c'è bisogno di ricercare O forse solo nei cadaveri Non lo so Non è stato Cioè qui è stato specificato Nei cadaveri Però magari anche Qualcos'altro Poi ci sono gli stimolanti E' una figata Perché gli stimolanti Aumentano alcune caratteristiche Del vostro personaggio Tipo non so Il metabolismo L'endurance E così via E solo si infilano A siringa E possono avere Degli effetti negativi Quindi Siete altici Siete drogati E iniziate a vedere Non so La vostra vista Inizia ad appannarsi Un pochettino Non so come spiegare Dei flash neri Insomma Come se Si chiudessero un po' gli occhi Ganzo Molto ganzo Così la gente Non ne abuse Se ne abusano Si drogano Però mi sembra Anche con tutte Le altre cose Tipo morfina Painkiller E così via Poi ci sono Più quantità Di usi Di alcune medicazioni Ad esempio I pacchetti Di pilole Che sono Le brufofene E E I Painkiller E I Painkiller Possiamo usare Fino a 4 volte Quindi se Di vuole Non ne dobbiamo Comprare 4 Ma essendo Che hanno L'animazione Spam Te ne dobbiamo Te ne dobbiamo Spam Te ne dobbiamo E così via E fa lo stesso effetto Che faceva prima Quindi A 4 minuti A pillola Mentre il Libruprofene E' praticamente Il painkiller In boccetta E c'è 12 Utilizzi Poi c'è La possibilità Di reclamare L'assicurazione In un messaggio Unico Ehm Uguale per il Free Market Quindi Quando vi arrivano Anche Non so Se le assicurazioni Però ad esempio Fate più di una missione Alla volta E la Ehm Per riscattarle Non vi dovete fare Una a una Ma tipo Receive all E ve le da tutte Ehm Poi Ci sono Nuove funzioni Nelle armi bianche Quindi Sarà Ehm Non si possono Raccogliere Ehm Le armi Mili Dai Dai Così Dai Dai PMC Quindi qualsiasi Coltello Cosa Un PMC Ci abbia Non glielo puoi rubare Almeno che ovviamente Non sia uno scav O un rider Ehm Poi Le animazioni Del controllo Dei caricatori Fanno vedere Anche il tipo Di proiettile Quindi In basso a destra Vedete Full O quello che c'è E sotto C'è il tipo Di proiettile Che avete Quindi Tanta roba Quindi sapete Che roba c'è Ehm Poi Non so Adesso Ci sono i messaggi Del flea market Che vi fanno vedere Quale oggetto Avete venduto Però non ho mai venduto Niente Quindi Ok Ehm Poi Ah c'è una nuova barra Che mostra il valore Totale Di tutto lo stash Ehm Io non Non ho visto dove Quindi ok O poi Hanno aggiunto Nuove armi E mod Hanno aggiunto Ehm Adar 2.15 L'HK 416 A5 L'RPK Il Remington 7000 Ehm Poi altre varianti Del Mosin Ehm Altre Mod per le armi Più di 80 Inclusi anche per la P226 E la TT Quindi adesso finalmente La TT Si può modificare Poi ci sono armi bianche nuove C'è Ehm Entraising Tool MPL 50 La baionetta Una Spada Tattica Ehm Laccetta Quella Da Quella da ghiaccio Il macete Ehm Tipo il Grease Ultimate Fixed Blade Knife Che è un coltellino Con mani con un po' arancione Ma è nero E' carino Ah no si E poi un altro picco No laccetta Ok laccetta normale E il piccone Da ghiaccio E un'altra ascia Quindi Si va giù di ascia Poi ci sono I nuovi visori notturni Quindi Vabbè Ci sono tre tipi di visori notturni NWG10T Armasite N15 E GP NWG18 Ehm Non li ho mai provati Poi ci sono Nuovi elmetti Oggetti per i caschi Lo Skull Lock Armasite NWG Mask Helmet Mask Questo non so che roba sia Più Armored Face Shield Penso che sia Quello di Kill Non lo so Helmet PSH97 Jetta Helmet SSH 68M Poi Firefighter Helmet Si l'elmetto da Da cosa Da Ehm Don mi viene L'italiano Dei pompieri Ehm Poi altre cose Tante altre cose C'è un altro Lo slap module Per il fast Non so che roba sia Io sarò a livello 10 Per dirvi Quindi non posso provare niente Poi ci sono altri nuovi occhiali Ehm I Pyra Piramex E i CM Frame Nuove cuffie Ehm Peltro Tactical Sport E le Modified Headset Peltro Comtac 2 Ok Quindi faranno schifo Più 2 Nuove armature C'è L'Assault Vest 6B13 Sia Flora E Digital Flora Ehm Assault Vest 6B23 Digital Flora E poi c'è 6B23 2 Monta in Flora Icom Trooper Body Armor Multiclam Zook 3 Body Armor Press E Zook Body Armor Ehm E poi c'era anche Un altro Tipo il Trooper Che Sembra tipo Un Gen Ehm Allora un Paca come grandezza Gen Come Aspetto E Protegge 4 E' Figo Ehm Poi ci sono altre Veste tattiche C'è Con L'Armor Plate 6B515 Ehm Uguale 6B516 Poi c'è Arnest Belt So Arroba Plate Carrier Vortex Vortex Tv110 E Plate Carrier Rana Tactical M1 Poi ci sono Due nuovi zaini I Paratadus O Parata No Paratus 3 Days Operator Statical Backpack E Backpack 50 Backpack No Backjack 50 Backpack Ehm Giochi di parole Non so quale dei due Sia più grande Ma so che Ce n'è una addirittura Più grande Del Pilgrim Quindi Tanta roba Poi ci sono altri oggetti Ci sono le C'è il case per i caricatori C'è il Case per le Dogtac C'è una borsa Ci sono altre nuove Una nuova Unbox Altre cose che Non conosco Non ho mai visto Quindi Non ve le sto manco a dire Però hanno aggiunto Questi Altri oggetti Ci sono nuovi tipi di ammo Che l'unica ammo nuova Che ho visto È stata Quella Della K Che sono le 545 39 7N39 Poi ci sono nuovi oggetti Per gli scambi Nuovi consumabili Che c'è la bottiglia Aquaman Con filtro integrato Vasetto di maionese Devil Dog Can of Sprazze Stimulatori Poi ci sono State delle ottimizzazioni Della pioggia Alcuni freeze Quando si cambiavano i caricatori In inventario Alcune varie soluzioni Ottimizzazioni Ottimizzato Ombre e lusci Altri bug E freeze risolti Che potevano causare Stuttering Però i freeze ci sono Ancora E i bug ci sono Ancora Quindi non possono dire Bug e freeze Altri bug e freeze risolti Perché qui Continua a frezzare A manetta Però Va bene così Poi ci sono i miglioramenti Dell'IA Hanno corretto Altre cose Tantissime cose Hanno cambiato La barra di scorrimento In certe schermate Che è aumentata Non so quale Hanno cancellato Dai menu i trader Che non possono riparare oggetti Ok Cambiamento Il bilanciamento Di armature e protezioni E hanno cambiato Alcuni prezzi Base di alcuni oggetti Ah e poi Vabbè qui Altre cose Inutili Ehm Ok Questo è quello Che hanno aggiunto Un video lungo Spesarevo di farlo Dieci minuti Ma mi sono Fermato a parlare Anche un po' troppo Allora Queste sono le cose Che hanno aggiunto Sicuramente le cose Più gnagnere Sono la mappa nuova Chilla Gli oggetti nuovi Armi Più che armi Protezioni E rig E anche il metti Ehm Le quest non lo so Io non sono mai arrivato A fine Quindi non so dire Se è una roba gnagnera O meno Ehm L'affare degli stimolanti È figo E poi vabbè Queste cose Diciamo Sono le più Soprattutto La mappa nuova Era quella Che tutti stavano aspettando Per la 0.11 Niente Qui siamo a 17 minuti Di video circa Vi voglio parlare un po' Della mia esperienza Allora Ehm Non ho giocato tantissime partite Ehm Ho giocato sia in gruppo Che in solo In solo Mi sono trovato meglio Perché ovviamente Me la posso giocare Come cazzo mi pare Mentre in gruppo Si fa sempre bordello Perché Perché la gente Non sa comunicare Se uno muore Ehm 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 Proprio trollano Ed è un po' Un cazzo in culo Però Da solo Me la sono giocata Molto bene Non ho Riscontrato problemi Devo dire Però ho giocato solo Dell'Hub Non ho riscontrato problemi Su Dell'Hub A giocare da solo Ehm Però a giocare in gruppo Ho riscontrato Un problema Che se Magari vi metto La clip Che Io Ehm Vedevo la testa Di un Rider Scavo Quello che era Attraverso una porta Gli sparavo Si continuava a sentire Eh 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 Questo qui Non moriva Quindi non so Il colpo gli arrivava Ma non gli faceva un cazzo Ehm L'ho iniziato a vedere Che correva dritto Nella porta Chiusa Quindi si vedeva Tipo Un po' Di corpo Che trapassava la porta Continuava a spararmi Sono sceso dalle scale Non mi poteva più colpirmi Ma continuava a colpirmi Attraverso di tutto Ehm Ho riscontrato Questo problema Ehm Quindi Niente Io Spero che Questo Ritorno Tra Tantissime Virgolette Vi Vi faccia piacere Ehm C'ho un Po' di clip Vediamo se Ci esce Qualche video Ehm Su Tarkov Però Non Non credetevi Niente Di che Cioè Non aspettatevi Nulla Perché Sono in ferie Non so manco Come avrò fatto A caricare Questo video Essendo che Non vado più Al lavoro Ehm Per ore Quindi Non ho la condizione Buona Ehm Boh Voi Non vi aspettate Niente Non vi aspettate Ci saranno 40 milioni Di Tarkov Vediamo un po' Quanto ci giocherò Ehm E se sarà Giocabile Alla lunga andare Se La mia esperienza Di gioco Non verrà rovinata Come il bug Quello del coso Che attraversa La porta Visto che Ehm Quelli Sono i bug Che ti rovinano L'esperienza Di gioco Che io ho sempre Detto Quindi Io spero Questo video Se vi sia piaciuto Ehm Vi ricordo Che in descrizione Trovate tutti i link Apriteli Perché nessuno Li apre mai Visto che Quando io Nel video Di Addio Tarkov Dissi Subito All'inizio Se volete capire Perché è uscito Tardi Questo video E altre cose Una cosa importante Andatela a vedere Su facebook A nessuno Gli è fregato Un cazzo Un applauso Per tutti voi Quindi Noi ci vedo In un prossimo video E alla prossima Ciao ciao